Per questo mi piaceva tanto l'estate. Potevo stare sott'acqua, ero solo e in silenzio. Nessuno poteva toccarmi e il mio corpo si muoveva libero da ostacoli e appigli. A parlare Goffredo, protagonista dell'ultimo romanzo dell'avvocato scrittore Antonio Chicoli, dal titolo Dentro alla stanza. Ora Goffredo è un uomo, passo dopo passo ha superato i ricordi oramai lontani, fino a credere di essersi liberato completamente da un'infanzia difficile. Poi all'improvviso però tutto ritorna e quella sensazione di essersi lasciato alle spalle un'infanzia fatta di abusi e pedofilia all'interno delle mura domestiche, ritorna prepotentemente. Un motivo di giustizia lo condurrà verso i luoghi del passato, un processo risveglierà in lui la voglia di tornare all'origine per sperare che la storia abbia un epilogo diverso. Ma il viaggio si rivelerà essere molto di più di un semplice flashback. Sarà l'occasione infatti per ricordare gli amici, le avventure e i giochi, ma anche per fare i conti con i propri incubi, pensando a sua sorella e a quell'uomo e alle violenze silenziose incise sul suo corpo. Come nasce questo racconto? Questo racconto nasce innanzitutto da quello che vediamo oggi, che viviamo oggi. E questo mi ha dato lo spunto. Mi ha dato lo spunto per raccontare, per cercare di entrare in quello che è la problematica. E anche la mia attività, la mia attività professionale, essendo un civilista e trattando anche di separazioni, o mi sono accostato alla problematica e quindi ho incontrato persone che mi hanno raccontato fatti che si avvicinavano molto a questo tipo di dramma. E poi è chiaro che ci ho messo la fantasia, ci ho messo, come dire, la voglia di raccontare delle storie, delle storie che potessero emozionare. Ed ecco che tra l'esperienza e il vissuto, ecco che nasce dentro la stanza. Dove si annida questo dramma e quali sono le cause, se ci sono delle cause? Certamente il luogo, la città è Sapri. Il dramma si svolge all'interno della casa, dove nessuno può vedere. È un dramma che evidenzia quello che abbiamo ancora oggi, l'omertà. Quindi annidandosi in casa e dove si evince dal racconto che si vuole cercare di nascondere, quindi nulla deve uscire da questa casa, e metto in evidenza proprio quello che bisogna combattere. Perché ecco, questo è un altro elemento, scrivere e cercare che quello scritto possa avere anche un fine, quello di combattere l'omertà, combattere comportamenti violenti denunciando.